Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Il famoso conduttore Alfonso Signorini completamente sconvolto per via della decisione di un concorrente del GFVIP 6 Decide di abbandonare definitivamente la casa per non farvi più ritorno Signorini GFVIP.Gli anime all'interno della casa sono nuovamente accesi Se l'intervento del conduttore televisivo ha placato per quanto fosse possibile la discussione fra Katia Ricciarelli e Lulu, un nuovo concorrente ha intenzione di riaccendere i fuochi prendendo però in considerazione altri viponi La tensione è ormai palese da tempo ed alcuni concorrenti presenti nel programma non riescono a vivere serenamente condividendo la loro quotidianità con alcune persone Sono ormai alcune settimane che, un concorrente in particolare, riflette sul da farsi Nelle ultime ore ha preso finalmente una decisione, scelta che farà completamente tremare il conduttore del famoso reality In questa sesta edizione abbiamo dovuto dire addio a diversi personaggi a cui tenevamo particolarmente Uno di questi ad esempio è Aldo Montano, il quale ha stretto un legame meraviglioso con alcuni viponi Uno in particolare, ovvero Manuel Bortuzzo Il ragazzo non ha preso molto bene la decisione dell'amico, infatti ha versato molte lacrime per lui Lulù, ragazza ufficiale del jeffing, gli è stata accanto per tutto il tempo dandogli conforto e spensieratezza È giunto però il momento di fare i conti con la realtà.Alfonso Signorini sconvolto per la grande perdita al GFVP6 Il conduttore televisivo ha spronato svariate volte il ragazzo, nel disperato tentativo di convincerlo a prendere decisioni avventate Per sua sfortuna però, d'ora in avanti, dovrà fare i conti con una scelta ferrea ed irrevocabile Il vipone Manuel Bortuzzo abbandonerà per sempre la casa del grande fratello Vip Sono molte le motivazioni che il ragazzo ha dato Lo stesso padre si è intromesso ed ha affermato che il suo ritiro è fortemente legato agli allenamenti del campione Manuel Bortuzzo GFV.Il vipone ha pensato molto prima di raggiungere questa conclusione Scelta sofferta poiché all'interno della casa lascia l'amore della sua vita Nonostante questo però, è fermamente sicuro che loro due avranno modo di viversi perfino lontani dalle telecamere Quindi lascia il reality completamente spensierato Questa sera il GFV dovrà dire addio ai compagni di percorso e da tutti gli affetti e dalle abitudini create insieme a loro Alcune voci però smentiscono questa notizia, queste infatti posticipano la sua uscita dalla casa al prossimo appuntamento serale Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video.Avvio